Ok devo essere sincera sono un po' preoccupato di questa arena gigante Ma è bellissima Sì è bellissima ma un po' mi preoccupa Ti spiego subito che cosa sta succedendo L'assistente segreto ci ha voluto sfidare di nuovo Dato che la scorsa volta siamo riusciti con abbastanza facilità a superare la sua prova Ok la sua malità super difficile Siamo riusciti abbastanza facilmente a superarla E che riesci facilmente a superare una cosa super difficile Ma perché siamo molto forti Stef secondo me ci ha sottovalutato Anche secondo me ci ha sottovalutato un po' Quindi questa volta siamo di fronte ad un'arena Dove praticamente ci sono vari cartelli con vari bottoni Più andiamo avanti con i bottoni Ah sono le difficoltà ovviamente Più saranno difficili i mostri che sfideremo Uno due tre poi boss E ti garantisco che i mostri che sfideremo non sono mostri normali Quindi parti anche da questo presupposto Sono un po' preoccupato perché non credo che sarà semplice Stef girati Stef 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 Allora ok Io non ho fatto niente E' compasso da solo? Aspetta sì Ma esplode? Non lo so Prendo una spada Stef Eh puoi venire per favore Non lo so Sono un po' preoccupato Penso che sia scappato da qualche cella Non lo so eh Ok Ce la contendo Non mi guarda neanche Sì lo so Per favore stendilo prima che esploda Grazie Ma non vale che ce l'aveva Ok Allora così almeno hai capito anche cosa intendevo per mob diversi da solito Così Quindi sono mob molto particolari Cioè che non esistono normalmente Esatto 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 quindi non sapremo neanche come affrontarli Noto però che ci ha lasciato delle spectral arrow Quindi delle frecce spettrali Ok Evidentemente sono molto efficaci Serviranno qualcosa? Ok Perché una meladoro Una spada in iron Non in diamondo Quindi non sarà per niente semplice Ma quindi combatti anche tu stavolta Stef Perché di solito mi lasci da sola a combattere No certo Fer Questa qua è una sfida che Ma dove hai preso Tutto sto coraggio Stef Non è da te Sei pazzo oggi Io sto a scudo ed arco Ok E io vado a spada Perfetto Allora Fer Fer Dai Stef non vedo l'ora Ne lo so però Fer Non premere Ti impedisco di premere il bottone Cosa vuoi? Strategia Ma dai che no Porfavor Facciamo le cose Fer E che Su Bisogna usare un po' di strategia Ok Io premo Ok Fer ti prego Allora che sono dei pigmen ragni Ascoltami Ascoltami Vieni qua Vieni qua Però i pigmen Tecnicamente finché hanno gli attacchi Sono pacifici Non andrei a scoprirlo Io ti direi Prendiamone uno alla volta Utilizzando l'arco Quindi ne colpisco uno Io con l'arco E vediamo se ci vengono Ok Che noia Vai Ok stanno venendo tutti Ma perché non mi attacca? Ah perché gli hai colpito Fer Li sto attaccando eh Li sto attaccando Tranquillo Stef Tienili Sono quasi morto Tienili Stef Tranquillo Sei già morto? Quasi Mangiati una golden apple Oh cavolo Stef Sto davvero forti Una morte per Stef Una morte pure per Fer No Stef Dobbiamo essere organizzati un po' meglio Eh magari eh Invece che spadigliare Quando ti propongo le tattiche Magari mi ascolti Cavolo Con le frecce muoiono subito però Due frecce bastano Ma non è vero Le saranno stati quelli già feriti Fer Ci abbiamo fatta Che meno Con molta fatica Sì ci abbiamo fatta Ma abbiamo del cibo normale? Non lo so No mi sa di no Vero Che servirebbe Piuttosto che sprecare solo golden apple Lo so Sai com'è Se questa era la prima ondata Non lo so immaginare Io mi mangio carne di zombie Tieni 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 Vai 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 Mangia 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 È buona è buona Torni finita Tengo la fame Stef Grazie no Sicura? No no Guarda che roba buona eh No non la voglio Io mi sono recuperato i cuoricini Fer Quindi sinceramente Te la consiglio No grazie Non ti interessa? No Quindi fase 2 eh No perché Abbiamo Voglio contarle Una morte a testa per ora Giusto? Ok Beh questi non sembrano pericolosi no? Ma è uno Sono tanti No 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 Ah eccoli Allora Aspetta aspetta Non sparare Sparo in aria Perché non so come bloccare la freccia Mi sembra che si stiano Piano piano allontrando Tra loro Sfruttiamolo Passiamo dalla sinistra Per prenderne almeno solo una Una alla volta all'inizio Ok 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 Le belle d'oro li devo ritenere per il boss Se devo essere sincero Eh certo La vedo grigia eh Però ci vorrei provare Allora bello ciao Ma che fai? Ti allontani con il mio vicino Bello Dai Vieni qua Ok Forse non ci attacca anche lui Finché non lo attacchiamo Vieni Vado Gli do una sberla Ma È così semplice? Vero? Ma davvero Ma Era una trollata questa Non lo so Non lo so Vero È una cosa un po' strana Devo essere sincero Approfittane Perché non so se ti sei resa conto Che ci vogliono otto colpi Per ammazzarli Sì Quindi sarebbe abbastanza problematico Sconfiggerli normalmente Ovviamente Qualunque cosa sia successo Pensavo ti stesse attaccando questo Approfittiamone No mi stavo solo fissando Corazzo è stata un po' triste Questa battaglia Eh insomma Fere Erano forti anche da fermi Sti cosi Sono davvero resistenti Cavolo Ok Così io continuo a riuscire a mangiare Ok Beh Fere Alla prima fase siamo morti Ma alla seconda no Devo dire che Davano palle di neve Aspetta ne ho altre Ma quante ne ho trovato Molte Allora fase numero tre Vieni qua perché tanto si è capito Verso dove compaiono E non voglio rischi Siamo morti Ah Che brutti Via 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 No sono morta Sono morta tutta la vita Steph Come facciamo? Non lo so Non lo so L'assistente segreto Qua è esagerato eh Non muoiono poi Ascolta Ascolta Mi è venuta un'idea Mi hanno avvelenato Dimmi la tua idea nel mentre Secondo me dobbiamo far risponare i golem E li usiamo come esche Tanto loro non ci attaccano Quindi loro attaccheranno i golem E noi li uccidiamo No Fere Devi combattere tu Non puoi fare la furba Certo Steph Se no non li faremo mai Cioè che sei pazzo? Io un po' ne ho ammazzato eh Che sei pazzo? Io mi sono tirato una mela d'oro Anch'io me la tiro Aspetta Ok sono appena morto Ok due morti Tu sei tre? Ma poi ti avvelenano Ti avvelenano No Sì forse tre Non mi ricordo Ma l'assistente segreto è esagerato Raga no Così è impossibile Sono troppi Ma che siamo pazzi? Li sto prendendo a sberle Devo essere sincero No eh Piano piano qualcuno sta morendo Sì anch'io Piano piano continuo a dare colpi Però che devo fare Non so perché c'hanno tutti con te comunque A me non mi stanno guardando E prima se la prendevano tutti con te Quindi non lo so perché Infatti guarda Mi ho approfidato Ho dato per le sberle Continuo a morire Ma Steph mi sei quasi rotta la spada Che faccio? Oh cavolo Io ne ho trovato alcuni in oro Ma sono abbastanza rotte Ho dato troppi colpi Ci vogliono troppi colpi Troppo forti Porca miseria Come faccio? Ho la spada quasi rotta Poi perché scatto? Perché c'è troppa gente Sì sì anch'io scatto È normale C'è troppa gente No Steph sono troppi Cioè qua moriremo Almeno una decina di volte Prima di riuscire a farli Beh credo che abbiamo fatto Arrabbiare l'assistente segreto La scorsa volta Siamo stati troppo bravi Sì perché esatto Ha detto Ho letto le cose facili Ecco come le do io le cose facili Per modo di dire Non so che fare Ok Ok inizio ad averne un po' meno Ho la spada rotta Uso l'arco Ok Uso l'arco Ci provo Anche se poi anche lì ho 20 frecce Quindi magari Io se vuoi ti ho detto Ne ho alcune dorate Ok Quindi se vuoi te le posso lanciare per terra Tipo Ci sono anche delle frecce normali in terra Sono ancora troppi Sono ancora troppissimi Lo so fare Cavole non siamo neanche al boss Ho trovato una spada di pietra rotta L'importante Tanto che comunque possiamo permetterci di morire L'importante secondo me È non usare le mele d'oro adesso Perché se questa qua la fa due tre Io non voglio sapere che cos'è il boss Ok Uff Dai stanno morendo eh Frecce Ci siamo quasi Ci siamo quasi Ma io voglio di veleno Non ho più una spada Non so che fare Li sto stendendo io Li sto stendendo io Il problema è che potrei non avere la spada per il boss Eh appunto Frecce sono finiti Sono finiti? Sì sì Ok 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 lì c'è una spada L'hai vista? Scusa Grazie eh Era per il mostro Grazie Sì Steph Ma è rotta anche quella spada Capisci Me le danno rotte i mob Io non ho più la spada Tieni che questa Un pochino Cioè che te le usi tutte Un po' rotte Te le metti tutte in barra Sì anche perché non ci ha dato Altro equipaggiamento Quindi io qui sono fregata totalmente Però sia parte della difficoltà a fare Eh suppongo di sì Allora io faccio così Guardate Tanto ne ho parecchie spade Aspetta È pieno di spade Guarda questa è a metà Questa è di stone Ma è a metà Quindi Oh usandole tutte un po' rotte Prima o poi qualcosa alla cavo È un po' di buono no Allora Ce la tiro fuori Vado Vai Vado Sì Ho paura eh Non è una bella cosa vai Pronta con le mele d'oro nel caso Se vedi che è difficile Subito me le d'oro Sì Via Allora io uso le frecce Per tenere la distanza Anche io Allora ha molta vita eh Te lo dico Quindi Io però da parte Usano tutte le frecce che ho Aspetta aspetta Io uso le spade Con i pochi colpi che ho Ok Io però con lo scudo Tu lo colpisci Io però con lo scudo Ok vai Ok Quanto ce la ha con te Vedi bisogna sfruttare Alla sta roba Però Stef non gli faccio danno Ok Perché ho solo spade in pietra Proviamo quella di gold Anche se è mezzo rotta Beh non è che faccia molto di più Però un pochino di più fa Eh un pochino di più lo fa Un pochino Esatto Ma poi che cavolo è Mr. Spook Halloween Guarda dove ne sei uscito fuori Dall'oltre tomba Che è un problema Mi ha già rotto lo scudo È fortissimo Non me ne ero accorto Ma l'ha già rotto Gli tiro frecce Corri Stef No me l'hai tirato addosso Sbalzalo via adesso Ok Ce l'hai fatta? Non le sbalza eh Li rimette solo Stef Vabbè mi mangio la mela d'oro Spero di resistere un po' Ok lo sto colpendo Stef No vabbè raga Ma non è neanche a metà vita Non è neanche a metà vita Ma come si può Ma come si può Sono quasi morto No Stef non morire Non se la prende con te eh No mai Ok molto bene Forse una volta che ha un target Aspetta cerco di raccogliere frecce in giro Perché ne ho sei Stef Sei tranquilla Sta andando male Sta andando molto male Comunque è un boss di Halloween 2017 A quanto pare Però ho detto che non è uscito dall'oltretomba Non era un bell'alloghi in questo Non era un bell'alloghi Stef dagli spolti stanno arrivando creeper Io non vorrei dire Pure Pure Faccia un tempo a mangiarla Ah Sì Ok per un po' dovrei reggere Stai fermo Boss Non riesco a prenderlo Che ti succede? Mi sta facendo fluttuare Perché stai fluttuare? Non lo so me l'ha fatto lui Credo sia una sua Abilità Quindi ha pure delle abilità Che non stava ancora utilizzando Vabbè inizia la pioggia Ha iniziato a piovere Perché sono morto Per la tristezza capito? Il gioco sapeva che io sono morto E quindi sta facendo piovere per quello Stef ho finito tutte le spade praticamente Non so che fare Ora ce l'ha con me Sì Mi dispiace Mi dispiace E c'è anche il creeper Ma che vuoi creeper? Vai via Non riesco A colpirlo Colpiscilo Stef Aiutami Non ci riesco Ok l'ho colpito Prova a fare ricolpi eh Vai Sì ti dura poco lo scudo però eh Eh lo so ma che devo fare? Ma perché ha preso Esplode Stef un fulmine l'ha preso L'ha fatto diventare potente Ho visto qualcuno che stava Fere siamo fregati È diventato più forte di prima Porca miseria Forse è la seconda fase Sì Perché ha metà vita Non ho più armi Vero Fere? Sì Fere Fere Provo Stef Ci provo Devo riuscire a tenerlo a distanza Devo riuscire a tenerlo a distanza Se a Z è col tempismo Io continuo a fare più danno che posso Ma mi uccide in niente Aspetta questa pioggia La vorrei toglierla Sbaglio O è più veloce? Sì è più veloce Adesso mi sta facendo fluttuare Beh almeno so proprio No Stef Non andare lì però Aspetta 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 Si sta a mezzo baggando Vuole raggiungersi nel muro E ti stava inseguendo Quindi gli ho fatto un po' di colpi Ma pochi E mi ero morto Sì ma Stef Qui ci vuole una spada Si è arrampicato il pazzo Ci vuole una spada Perché a quanto pare Avendo le gambe da spider Si sta pure a arrampicare Lo vedi che diventa infuocato No sta diventando ancora più forte No 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 porfavor Assistente segreto ti odio Io te lo dico Ma è No non riesco neanche a prenderlo Cioè È troppo veloce adesso È troppo veloce È troppo veloce Si sta Fere sta acquisendo i poteri Di tutti i mostri Ma davvero Sì E Ha preso il potere dell'enderman Ha preso il potere dell'enderman Ok dovrebbe smettere di piovere Ora finalmente Si è teletrasportato Ok E non so più dov'è Come si è teletrasportato Sì 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 Vabbè Stef Un attimino di respiro per noi Dobbiamo procurarci delle armi Lo so Queste non vanno bene Lo so Non so come fare Dai davvero Andiamo di sotto Non ci ha lasciato nulla Andiamo qua sotto Ma dove è finito Non può finire questa battaglia È una tristezza Cioè lui Guarda Ci sono delle armi Frecce E un'ascia di Prendi l'ascia di diamante Ok va bene E c'è un'altra cesta Vediamo se la posizioniamo Avrà qualcosa a sua volta Non credo Non credo Però provaci No Purtroppo no Vabbè con l'ascia Almeno in diamante Posso dargli un po' di colpi Beh fa 11 di danno l'ascia Appunto è tornato Quindi No ho trovato gente Nei sotterranei Perché sto vedendo Se trovo qualcosa Anche per me Frec Capisci Quindi sto approfittando Di questo momento Per esplorare un pochino Sì ma io non ho la più Pall'idea dove si sia cacciato Nien che io Nien che io Non lo vedo negli spalti E comunque gli vedo la vita Quindi è qui da qualche parte Il maledetto Lo so Infatti ho paura di ritrovarmelo In queste prigioni Perché a quanto pare Sono in delle prigioni io Però Non lo sto vedendo E sono parecchio preoccupato Ok Credo di stai riuscendo Da un altro lato Penso di sì Ti vedo Ok Ah Ok Sì 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 Però questo lato è chiuso Fede ciao Ciao Steph Dammi la mano No C'è un creeper dietro di te Oh È sceso dagli spalti Sì ma il boss mi preoccupa Anche a me Ecco qua Esplode pure Maledetto Ha dato dei blocchi Hai distrutto l'arena Approfittiamone Seguimi Stavo cercando proprio dei blocchi io Secondo me è nato negli spalti Però noi non avevamo modo Di raggiungere gli spalti Quindi Ah però è sappia questa Ovviamente Ovviamente è sappia Allora non mi basta Anzi sì 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 Ok Dici che è qua negli spalti Sì da qualche parte Forse l'ho visto Di fronte a noi Ti stavo per dare i grandi Tipo Fortnite Cavolo Ah beh però non ci sono Non abbiamo un piccone No Purtroppo no Però dovrei riuscire a romperlo Non mi dà il blocco Ma riesco a romperlo Esatto Ok Faticaccia sta battaglia Lo so fare Secondo me è qui Sono quasi sicuro Ma qui dove? Qui di fronte a me Sicuro? Sì Se rompo questo Dovremmo vederlo Ok Sono un po' spaventato Non sono molto felice Di averlo ritrovato Avrei preferito sapere Che se n'è andato via Per sempre No Non c'è Ma 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 Fede La più paliera Dovessi starete a portare Non che sarebbe fighissima Non l'avevo capito Ma è sparita anche la sua vita Stef Sì Non l'abbiamo battuto No Non l'abbiamo battuto Tecnicamente lo dovremmo rievocare Perché non siamo riusciti a combattere L'abbiamo battuto Stef non si può fare così però Abbiamo vinto Stef non l'abbiamo vinto È vinta Però aspetta Se il nemico si ritira Abbiamo vinto Vittoria a tavolino Vittoria a tavolino No più o meno a tavolino Mio re È quando neanche si ci si presenta Vieni a parlare con il re Re secondo lei abbiamo vinto Sì Certo Il nemico si è ritirato È scappato perché era morto troppe volte L'hai sentito Stef Sì 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 Perché noi chiaramente eravamo in vantaggio Quindi lui è scappato Beh lui è morto tipo 35 volte Ferre noi zero Mica noi Mica noi Secondo me Secondo me Aveva talmente paura Che sarei data a gambe Stef Sì sì Siamo stati bravi Siamo stati bravi Molto bravi Assistente segreto Ti devi impegnare di più Abbiamo vinto un'altra volta Sì questa era troppo facile Sì ti devi impegnare di più La prossima volta mi raccomando Cerca qualcosa di ancora più difficile Perché così è stato un po' troppo facile